Ciao! È da un po' che mi ripromettevo di parlare del lineart modifier che è una grandissima novità di Blender soprattutto per chi vuole ottenere dei risultati che sembrano disegnati. Grazie al lineart modifier è possibile realizzare rendering di questo tipo con le linee e soprattutto anche con gli stili più disparati che possono appunto per esempio somigliare a dei disegni fatti a mano come in un caso come questo che è quello che trovate appunto nel mio tutorial sulla città di fantascienza. Vi metterò un link sotto nella descrizione del video se siete eventualmente interessati ad andare a vedere su Gumroad di che si tratta. Diamo un'occhiata a cos'è questo nuovo strumento. In realtà è un modifier per Grease Pencil. Se volete sapere cos'è Grease Pencil uno dei miei video recenti è questo cos'è Blender Grease Pencil che ve lo spiega velocemente. Se vorrete invece proprio imparare del tutto di utilizzarlo da zero io sul mio canale ho un corso intero di Grease Pencil modulo 1 dove si impara a utilizzarlo per disegnare immagini statiche. Nel modulo 2 si comincia anche a utilizzarlo per animazioni perché è uno strumento col quale si possono fare animazioni sia tradizionali che 3D con un misto di 2D e 3D. Pur essendo un modifier lo si trova questo nuovo strumento già nel menu di aggiungi quindi con maiuscolo A alla voce Grease Pencil posso già aggiungere e questo è il modo più facile per capire di che si tratta aggiungiamo subito questo Scene Line Art con il cubo di base e vedete in arancione clicco fuori in maniera che non non sia più evidenziato che ci sono delle righe sul mio cubo e fin da subito vi faccio notare che queste righe prima di tutto sembra che rendano il cubo trasparente e secondariamente non sono su tutti i lati del cubo per esempio questi due lati non hanno righe. Perché? Perché questo strumento funziona solo con una telecamera in scena. In scena nella scena base di Blender se l'avete lasciato come sta una telecamera c'è e se premete 0 sul tastierino numerico vediamo la scena dalla telecamera e riusciamo a capire che questo modifier sta funzionando da questa vista. Se seleziono il cubo per esempio e premo R per ruotarlo e lo ruoto premiamolo due volte RR in modo da poterlo ruotare anche in altre direzioni. Proviamo a spostarlo in un'angolazione diversa tipo questa nella quale riesco a vedere solo queste facce. Esco dalla telecamera e andiamo a vedere e scopriamo che ci sono le righe solo di questa faccia. Che questo oggetto nuovo Lineart adesso è fatto così. Torno nella telecamera sposto di nuovo RR il cubo esco dalla telecamera e adesso le linee sono queste. Quindi capite immediatamente che questo strumento Lineart disegna le righe che ci sono sulla scena ma solo a partire dalla visuale della telecamera. Quindi l'unico modo per cambiare le righe è o rimanere nella telecamera e cambiare la scena oppure andando nel menu view scegliere camera to view di fare un lock e adesso quando sposto la telecamera anche le linee vengono cambiate e vengono disegnate di volta in volta. La vostra scena quindi sarà più lenta nel momento in cui questo modifier è attivo. Ovviamente per un cubo non ve ne accorgete però se cominciate, adesso lascio questo lock, nascondo, se cominciamo a rendere la nostra scena più affollata adesso ho popolato la mia scena di cubi e con la telecamera mia lontano potrete accorgervi adesso che la scena è affollata che ci sono appunto che lo spostamento della telecamera è molto più indurito perché la scena è piena di oggetti e ogni volta queste linee devono essere generate. Esco dalla telecamera e le posso proprio vedere. Tra l'altro posso vedere che le linee degli oggetti più lontani sono più sottili di quelle degli oggetti più vicini. Sono sempre in primo piano queste righe perché andiamo a selezionare il nostro oggetto line art che adesso è nascosto in fondo tutti i cubi. Eccolo qua line art. Se vado a vedere le caratteristiche dell'oggetto sotto viewport display come vedete è cliccato in front. Se io lo togliessi adesso guardate la differenza lo devo selezionare però siccome l'arancio mi dà fastidio premo questo tastino qua sopra per nascondere le righe. Con in front le righe sono sempre davanti agli oggetti sempre. Se lo tolgo le linee possono essere oscurate dagli oggetti e quindi se uscissi dalla telecamera non ho più questo fastidioso oggetto di fastidioso effetto di trasparenza ma che succede succede che dove le linee sono esattamente corrispondenti vedete come qui a un bordo vengono leggermente mangiate dal bordo stesso e questo è il motivo per il quale di default viene attivato in front per l'oggetto risultato del line art modifier. E' molto comodo perché sempre avendolo selezionato come prima è selezionato non vedo l'arancione perché ho disattivato questo altrimenti non riuscirei a vedere bene. Se vado qui tra i modifier lo scopro eccolo qua line art modifier non è nient'altro che un modifier e ha come sorgente la scena quindi praticamente tutto quello che è in scena viene bordato e ho anche delle opzioni per esempio nello stile thickness è a 25 se la alzo a 50 le righe sono più grosse se la alzo a 100 diventano sempre più grosse e l'opacità quindi quanto le righe devono essere opache le teniamo a 100 così sono grosse. Questo occlusion permette anche di vedere le linee in trasparenza per questo io scelgo primo livello non vedo le linee più visibili ma vedo quelle della trasparenza e quindi per esempio potrei usarlo raddoppiando questo modifier se io faccio un duplicato e sul secondo magari cambiamogli nome line art trasparenti posso cliccare e scegliere qui il primo livello abbiamo detto uno di occluso e magari lo spessore in questo caso lo faccio della metà e anche che ho le linee di trasparenza ovviamente la trasparenza di tanti oggetti uno davanti all'altro potrebbe avere vari livelli quindi questo è il primo livello di trasparenza potrei voler disegnare un secondo livello di trasparenza allo stesso modo con un altro modifier quindi già così potete capire come può essere interessante per dei rendering di elementi magari appunto come in questo caso più tecnici in qualsiasi momento se premo questo tasto non vedo il risultato del line art modifier sulla scena e però lasciando questa immagine rimane nel rendering quindi se prima f12 nel mio rendering lo vedo se invece lo tolgo anche tolgo anche questo questa spunta scompare anche nel rendering vedete le linee di trasparenza questo è molto comodo perché siccome abbiamo detto che è pesante da calcolare adesso qua lo vedete in real time nonostante tutti questi cubi ma prendiamo una scena più complessa ora oltre ai cubi ho portato in scena un paio di palazzi di quelli che appunto ho realizzato per il mio tutorial se adesso provo a spostare la telecamera diventa sempre più difficile e allora cosa faccio nel mio oggetto line art posso disattivare la visualizzazione nel viewport fare quello che devo fare con molta più comodità e sapere che quando premo f12 nel render ci sarà tutto quanto opla adesso ho cambiato un materiale per quello era tutto nero e tra l'altro vedete ho la trasparenza e tutto quanto volendo adesso disattiviamo la questa cosa della trasparenza torno a selezionare line art modifier non devo fare nient'altro che rimuovere anche questo occhietto non mi serve buttarlo via vedete le linee tra l'altro che sono più vicine per gli oggetti vicini e più sottili per gli oggetti lontani che è quello che di solito in un disegno si vuole quindi questo è uno strumento col quale possiamo ottenere finalmente quelle linee di bordo che una volta era molto difficile ottenere nei software di disegno 3d se metto in scena anche una luce mettiamo un bel sole light sun lo tiro su mi devo spostare nella visuale renderizzata rr lo giro in maniera da poter vedere qualcosa il mio mondo in questo momento è piuttosto chiaro per abbassarlo o alzarlo riprendo il sole non vedete niente nelle selezioni come al solito perché avevo premuto questo tasto lo faccio perché altrimenti ogni volta che seleziono line art modifier vedo le righine arancioni comunque adesso la luce si vede un po meglio ecco e se faccio un render adesso o quindi sia la luce le ombre e anche le righe che è quello che appunto come disegnatori a volte vogliamo su queste linee o anche un discreto controllo vedete che alcune mancano come per esempio questa qui questo cerchio non è finito allora come facciamo andiamo a guardare ea riattivare il modifier sulla scena per poterlo vedere in diretta nascondo di nuovo le linee possiamo notare qui che ci sono le varie cose da disegnare quindi per esempio il contorno degli oggetti ma dei bordi tra materiali diversi qua c'è sempre lo stesso materiale al 10 che sono marcati in un certo modo le intersezioni tra un oggetto e l'altro potete notarlo per esempio dove certi cubi si intersecano quindi mi tira un po più vicino questi cubi guardate qui per esempio c'è un intersezione tra cubi nella mia line art adesso non è mostrato se lo clicco appare l'intersezione tra i cubi crease sono invece tutte quelle linee che si creano quando c'è un angolo abbastanza vistoso tra due facce e l'abbastanza vistoso è determinato proprio da questo numero quindi se lo tolgo per esempio scompaiono tutte queste righe questa del cerchio questa ma se lo rimetto alcune appaiono quali quelle che sono al di sopra di questa soglia quindi più abbasso meno righe vedo più alzo ed ecco che potete vedere i cerchi dietro che si riempiono andiamo a zoomare un po con la telecamera per vedere meglio questi oggetti qua dietro potete vedere adesso che se abbasso crisi scompaiono alcune linee se lo alzo ri appaiono addirittura se lo alzo tanto cominciano ad apparire quelle che creano i cilindri quindi questa funzione maniera simile più o meno ad auto normals potremmo comunque trovare una posizione in cui ci piace questo e andare in edit mode negli oggetti devo ripristinare questa modalità di visualizzazione e selezionare per esempio certi bordi che ne so questi questo bordo qui se facciamo tasto destro e scegliamo mark freestyle edge ecco che abbiamo in formato blender che questo bordo interno lo vogliamo sempre vedere per esempio potrei farlo anche per questo tasto destro mark freestyle edge ed ecco che questo bordo diagonale viene sempre mostrato se torno sul lineart modifier posso abbassare quanto voglio questo valore ma questa linea rimarrà sempre finché ovviamente clicco edge marks perché se tiro via edge marks ecco che scompaiono quindi abbiamo molto controllo su tutto questo per esempio potremmo fare che queste linee le facciamo di spessore 70 ma non ci mettiamo i contorni e duplico questo lineart modifier e lo chiamo lineart bordi anzi contorni e potrei dire che non tutte queste cose ma solo i contorni sono grossi 100 o anche 120 e quindi si vede la differenza potrei anche cambiare materiale qui ho solo il nero però se io creo un nuovo materiale e parto dal nero e lo duplico e lo chiamo red e invece che nero scelgo un bel rosso adesso nel mio lineart modifier posso dire che i contorni li voglio in rosso ed ecco che sulla mia scena i contorni sono in rosso li vediamo di un rosso scuro perché in questo momento abbiamo questo use light che se tiriamo via le linee non rispondono più alle luci e hanno dei colori fissi quindi ecco per esempio in questo modo abbiamo generato i contorni in rosso e le linee in nero si mischiano in questo modo ma se noi mettessimo i contorni prima delle altre righe potrebbero anche sovrapporsi in maniera diversa possiamo utilizzare dei layer quindi vedete questo layer è sulle linee lineart è disegnato su linee e anche lineart contorni è disegnato su linee però se io nel mio oggetto green pencil crea un nuovo layer che chiamo contorni è un layer che lascio al di sopra di linee potrei dire qua nelle opzioni che contorni va a essere scritto nel layer contorni mentre invece appunto la lineart normale chiamiamola lineart linee per capirci viene messa nel posto normale adesso ovviamente anche layer contorni devo togliergli use light ed ecco quindi per esempio che qui funzionerebbe come con i layer di photoshop sono sicuro che i contorni stanno sempre sopra se li spostassi in giù invece i contorni stanno sotto e quindi le linee nere li coprirebbero e questi sono oggetti di grease pencil per cui posso farci un po di tutto posso anche aggiungere altri modifier per esempio potrei aggiungere un modifier noise e composition di 1 e la posizione delle linee viene modificata moltissimo thickness di 1 e vedete è tutto molto rovinato diciamo 0,5 quindi in pratica vengono generati dei valori casuali posso farlo anche per strength che sarebbe l'opacità e a basso quindi vedete possono diventare delle linee molto meno alzo di nuovo il valore del word per andare verso un fondo piuttosto bianco capite quindi che ci sono tantissime possibilità di lavoro già il noise modifier mi rende le cose più varie immaginate cosa potete fare nel momento in cui potete utilizzare per esempio delle texture per le pennellate cambiare texture a seconda di cosa state disegnando quindi appunto se siano i contorni usare i layer quindi potete mettere dei layer con effetti di luce con effetti di moltiplica ci sono tante possibilità e il tutto parte dalle geometrie che ci sono in scena e quindi anche potrebbe essere fatto adesso sono bloccate qui ma potrebbe essere fatto anche all'interno di un'animazione seleziono la telecamera camera scelgo i location e rotation vado al fotogramma 40 torno indietro mi sposto mi metto qui e faccio di nuovo i location e rotation faccio durare la mia animazione 40 e viene generato ogni volta adesso viene generato al volo notare tra l'altro che il rosso manca nel primo fotogramma perché l'ho creato dal fotogramma successivo quindi mi trovavo per sbaglio il fotogramma 2 quando ho creato tutto quanto devo rigenerare il line art modifier qua in baking cancellare questo clear bake line art questi tasti tra l'altro bake sono disponibili per ognuno dei modifiers bake cosa significa che invece di calcolare al volo per ogni fotogramma questi diversi segni una volta che lo premo o per il singolo modifier o per tutti bake line art per tutti lo fa per tutta l'intera animazione in questo caso per tutti quanti il line art modifier e se lo salva in questo modo quando vado a fare play nell'animazione è tutto molto più fluido perché non lo deve calcolare al volo finché almeno la scena resta la stessa e quindi diventa molto più facile adesso il modifier noise da per esempio molta confusione vado a ridurlo moltissimo facciamo 0,1 ecco adesso lampeggia appena appena quindi vedete questo è il noise modifier se io lo togliessi non fa più questo effetto di movimento insomma ci sono altri modifier vi invito a guardare il mio corso di grease pencil per esempio anche multiple strokes che raddoppia che disegna molti duplicati del segno a una certa distanza quindi se facessi così in pratica possiamo fare fade e posizionare il centro tutto di qua ridurre un pochettino ed ecco che in questo momento ci sono più righe per ognuna delle righe e sfumano mano a mano quindi ci sono tante cose che possiamo fare nel momento in cui queste righe sono generate con grease pencil e non con i vecchi metodi diciamo di freestyle per esempio con il classico metodo dell'inverted fall ora l'abbiamo visto all'opera sull'intera scena e però abbiamo anche la possibilità di lavorare solo su singoli oggetti per esempio se io dico che voglio le linee trasparenti quindi vado a selezionare lineart adesso non posso fare niente perché è stato fatto il bake e quindi non posso più fare niente devo andare in uno qualsiasi degli oggetti e fare un clear baked lineart in maniera che vengano cancellati tutti i bake e possa ripartire con delle altre impostazioni allora per esempio lineart trasparenti invece che sulla scena potrei scegliere oggetto e decidere di pescare con il contagocce solo questo oggetto ed ecco che le linee di trasparenza magari non si notano tanto vado ad aumentare l'opacità ecco le fa solo su questo oggetto per esempio invece di black magari facciamo un altro materiale faccio un altro slot ecco abbiamo dots stroke e potrei dire che le linee trasparenti le voglio fatte col materiale dots stroke e vengono disegnati solo dei puntini in effetti sono quasi invisibili e quindi forse è meglio che li rendo più visibili ecco sto solo mostrandovi alcune delle possibilità quindi vedete adesso solo questo oggetto alla trasparenza e quindi allo stesso modo posso regolarmi con gli altri potrei anche fare delle collection quindi magari di nuovo ripristo una selezione questi due oggetti li infilo in una nuova collection palazzi ok e posso dire al mio lineart modifier che i contorni quelli rossi non sono su tutta la scena ma sono in una particolare collection in particolare la collection palazzi ed ecco quindi che ho il le linee rosse solo sugli appartenenti a quella collection la trasparenza solo su quell'oggetto in più posso creare anche altri oggetti lineart sulla scena se non quindi posso sia mettere di seguito molti modifier qui e poi per esempio avere dei modifier aggiuntivi qua sotto però ammettiamo che il noise voglia darlo solo ad alcuni posso usare qui lo sistema dei layer per dire al noise agisci solo su un certo layer o su un certo materiale oppure potrei anche mettere in scena più di un oggetto gris pencil perché ne posso fare quanti ne voglio quindi potrei selezionare solo questo oggetto fare aggiungi gris pencil object lineart e adesso mi ha aggiunto un altro lineart posso chiamarla la lineart dei cubi e qui ho altre opzioni agisce solo sui cubi e magari in questo caso semplicemente nel mio stile voglio che sia 200 di spessore continuo a lavorare ovviamente con questa telecamera con la telecamera della scena quindi posso veramente mischiare un po di tutto avere diversi oggetti gris pencil per ognuno avere diversi modifier con caratteristiche diverse questo permette la più grande libertà nella gestione e nella generazione di queste righe le prestazioni non sono proprio real time del tutto in questo momento se facessi un play della scena vedete sta andando 7 8 fotogrammi al secondo dipende da quanto è complessa la scena e dalle caratteristiche del vostro computer ovviamente e anche da quante linee andate a generare però il rispetto freestyle che c'era prima è tutto un altro mondo e per magari noi che disegniamo ci permette di ottenere facilmente magari con un word tutto nero evitando tutte queste stranezze quindi adesso nascondo line art cubi torno qua e nascondo le cose più curiose come quella dei contorni e quella della trasparenza tengo quella delle linee la rimetto sui contorni ecco qui che possiamo avere una finitura molto cartoon perché il line art modifier mi dà le linee con il nero o le ombre nere se vado a selezionare la luce istantaneamente posso cambiare la direzione delle ombre e avere un risultato molto simile a qualcosa di disegnato in questo momento le ombre sono un po scarse ma è semplicemente per le impostazioni qua di shadows che sono molto basse se ne metto a manetta ecco che all'improvviso le ombre diventano molto più accettabili posso anche togliere soft shadows anche se questo introduce qualche artefatto insomma però per mostrarvi come per per un disegnatore il questo line art modifier può fare la differenza insomma come un mondo invece molto bianco una situazione più pulita e non neanche bisogno in realtà in questo caso potrei nascondere o non utilizzare il sole e avere una una scena in questo momento appare un po grigia perché bisogna andare in color management e invece di filmic scegliere standard ed ecco che tutto quanto invece appare bianco quindi questo è il line art modifier in spiegato in breve giocateci e provate tutte le opzioni perché davvero un'opzione nuova ed interessante grazie mille e alla prossima